la quota in questo momento insieme alla compagna Rubina, tutto pronto, partiti non esce brillantissima Rubina va in vantaggio Rosa De Lottas, avendo all'esterno subito Romulus terza posizione in corda per Rugantina che allargo Rubina, quindi razza di Gallura si va ad affrontare la piegata con Rosa De Lottas e Romulus ancora apparigliati quindi Rugantina, Rubina che non è brillantissima nell'affrontare la piegata affiancata all'interno da razza di Gallura si va al completamento della prima piegata, ingresso sulla retta di fronte con Rosa De Lottas che si mantiene in vantaggio, sempre corsia esterna per Romulus dietro a questi due Rugantina, Rubina che si ripropone all'esterno della stessa Rugantina in coda a contatto è razza di Gallura il quintetto raccolto quando siamo a 800 dalla conclusione con Romulus che preme Rosa De Lottas che è richiesta per respingere l'attacco di Romulus le mosse di Romulus adesso sono seguite da Rugantina poi razza di Gallura che di fatto lancia in corsia esterna Rubina in coda adesso è scivolata Rosa De Lottas siamo a metà della piegata conclusiva con Romulus che si mantiene in vantaggio Rugantina che prova a presentarsi al suo esterno dietro a Rugantina c'è Rubina che è all'interno razza di Gallura ingresso in addirittura con Romulus che si presenta in vantaggio molto larga viene la compagna Rubina poi Rugantina razza di Gallura più staccata Rosa De Lottas Romulus è ancora in vantaggio nei confronti della compagna Rubina all'interno prova a venire avanti anche razza di Gallura Romulus è in chiaro vantaggio nei confronti di Rubina con qualche problema di impiego all'interno è razza di Gallura Romulus che però non ha problemi vince facile per il secondo sono vicini razza di Gallura e Rubina molto scomposta nella sua azione vince Romulus numero 4 dello schieramento colori e training di Antonio Fisiopin Mario Sanna in sella 1,20 la quota rivediamo anche il replay per il secondo posto tanto l'inquadratura per il vincitore Romulus tendiamo un attimo il replay per cercare di decifrare giudici di arrivo che nel frattempo richiede la fotografia per il secondo posto grazie a tutti 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 grazie a tutti